Bene ragazzi bentornati su Trial Gamers, qui Lele e oggi ragazzi inizieremo una serie epica Scusate se sto tenendo la telecamera così in mano senza cavalletto ma volevo fare una intro piuttosto veloce Allora ragazzi oggi cominceremo un let's play tutti insieme, io e voi, voi e io, io e... vabbè io e voi Sto parlando ragazzi del let's play di Outlast per PS4 Quindi che dire ragazzi, spero vi piaccia questa serie, vi avviso subito che un episodio durerà circa sui 15 minuti Li farei anche di 20-25 minuti ma purtroppo il mio computer non ce la fa Quindi li farò massimo 15-16 minuti al massimo, un episodio Quindi ragazzi vado alle ciance, spero vi piaccia questa serie Vi... mi auguro che vi diverto, che vi faccio ridere, che vi faccio spaventare come mi spaventerò io probabilmente Se muoio di infarto durante il video tranquilli, tanto dopo ritorno in vita e lo continuo tranquilli E niente ragazzi, spero vi piaccia e cominciamo il let's play Bella ragazzi, qui Lele ed eccoci qua su Outlast su PlayStation 4 ragazzi Allora io mi sto già cagando addosso nella schermata iniziale del gioco Dove ovviamente c'è scritto, vabbè, tutte le cose, nuova partita Io non l'ho mai giocato ragazzi, sarà la prima volta insieme a voi Non so un piffero Perché io sapendo che dovevo fare una serie prima o poi su questo gioco Ehm... non l'ho mai guardato niente Cioè ho guardato giusto giusto tipo le... i tasti, quelle cose là Ma non ho mai visto nessun walkthrough, nessun let's play di nessuno youtuber Quindi... nuova partita ragazzi Oddio mio, c'è pure la difficoltà Fole ragazzi, no sto scherzando, facciamo normale perché Outlast contiene scelte di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale In linguaggio esplicito, buon divertimento Ovvio, grazie Vesti i panni di Miles Apshur Un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno Sempre pronto a rischiare il tutto per tutto per indagare su casi impossibili Stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si c'era nel cuore del manicomio di Mount Massive Oh mio dio Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto Non sei un combattente Quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mount Massive Hai solo due possibilità, tre possibilità Correre, nasconderti o morire Beh... ok Perfetto ragazzi Già la intro promette bene Ok salviamo i dati Scusate se ho alcune volte una voce un po' così nasale ma Un po' di raffreddore ragazzi Perché ovviamente inizia settembre e iniziano i problemi Allora ragazzi, caricamento Allora ragazzi, ci vediamo all'inizio del gioco Ok ragazzi, eccoci qua all'inizio Ci ha messo un po' a caricare Mamma mia che grafica ragazzi, è stupendo Questo gioco era per, inizialmente per pc Poi si è... Cioè l'hanno fatto anche per playstation 4 ragazzi E devo dire che la grafica è veramente meravigliosa Cioè ragazzi, che figa... Cioè la grafica è assurda ragazzi, mi piace tanto Bene ragazzi, stiamo andando Probabilmente in un posto dove non dovremmo andare proprio però Io vedo una specie di castello Anzi manicomio perché là c'è scritto manicomio Quindi penso che... Mount Massive Asylum ragazzi Sì stiamo andando dritti dritti dentro un manicomio abbandonato dove... Ok, molto accogliente Un manicomio molto accogliente ragazzi Molto ospitale ragazzi Un manicomio molto ospitale Bene, parcheggiamo la macchina ragazzi Ma che grafica ragazzi, bellissima Ok ragazzi, stiamo per... Andare Ok, la telecamera ragazzi, che figata Ok, non mi conosce Ragazzi, io le note di solito nei videogiochi indie, horror, survival non le leggo mai Però, visto che siamo all'inizio gioco Ragazzi, leggiamo Ah, non mi conosci, devo fare in fretta Forse mi controllano Ho lavorato due settimane come consulente informativo nella clinica psichiatrica Markov di Mount Massive Sto per infrangere tonnellate di clausole e di riservatezza Ma non me ne frega un... un cazzo Ragazzi, c'è proprio scritto così, non so io come lo sono inventato Per quelli possono... Per me quelli possono andare tutti a fare in culo Mamma mia ragazzi, quanta volgarità Lì dentro succedono delle cose orribili Non riesco a capire Anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre Rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna La gente soffre e quelli di Markov fanno i soldi Devono saperlo tutti Bene ragazzi Quindi in poche parole in questo manicomio... Queste sono batterie penso Ok ragazzi abbiamo preso la nostra bella amata telecamera che ho letto che sarà la nostra migliore amica in questo gioco Ecco, che figata raga Uh, zoom anche Super HD Uh, c'è scritto anche... In basso a sinistra c'è scritto HD Che figata Beh raga Ok ragazzi stiamo ascendendo e penso che inizierà la nostra avventura Ecco qua ragazzi il manicomio dei Mount Massive Ok, gli obiettivi vengono aggiornati nel tuo sacquino da reporter Questo quindi Ok Obiettivo Indagas il manicomio dei Mount Massive Note e documenti Ok Che contiene anche le tue note e i tuoi documenti raccolti Ok ragazzi Ok, siamo partiti raga Minchè bel cielo Veramente molto accogliente Siamo partiti Io mi sto muovendo Qua c'è una telecamera di sorveglianza Ok, entriamo qua dentro per vedere se No Mi vedo il corpo Raga Sto gioco merita una medaglia d'oro Soltanto per questo Cioè Ok Posso fare qualcosa qua? No Ragazzi che cazzo è stato sto rumore Ragazzi non iniziamo quegli infarti Perché io veramente sono Cioè siamo a inizio Cioè non abbiamo neanche iniziato E già si sente il cancello che si muove da solo Perfetto Non so se riuscite a vedere Ma sono uccelli quelli E poi pistelli Oddio mio Ok Bellissimo il cielo Cioè veramente mi Mi consola molto Per aprire un colpo Di colpo una porta Apri un quadrato Per aprirla lentamente Tieni premuto quadrato E muoviti verso di Ok quindi Tengo premuto e posso Aprila lentamente Che figata Per sollevare la videocamera Premi R1 No raga È un spettacolo Sto gioco Evento registrato Una nota è stata aggiunta Al tutto Quinto da reporter Premi Sinistra per Per leggerla Manicomo di Montomassi Ah ok ragazzi Questa è una Una cosa che abbiamo scritto Noi registrando Che figata Quindi noi riprendiamo E il nostro personaggio Ha nota Solo a guardare A questo posto E viene il vomito Il manicomo di Montomassi Ficuso nel 1971 Per uno scandalo Messo da tecere Dal go Minchia da tanto Che è chiuso Vabbè ragazzi Io vi lascio qualche secondo Per leggere Mettete pause E leggete Bastardi Ok Perfetto Non leggo Perché ragazzi Perdo troppo tempo E ok Le note vengono inserite Nel tutto Quando sollevi la videocamera Per registrare gli eventi Quindi Quindi ragazzi Registriamo le cose Ragazzi C'era qualcuno Alla finestra Come lo sono immaginato Oh cazzo Ragazzi C'era qualcuno Giuro che c'era qualcuno Alla finestra Ok Non si può correre Sto gioco Percorrere Grazie L'ho detto fatto Percorrere Teni premuto L1 Ok Non c'è niente Andiamo di qua ragazzi Entrata Raga Entrata Mount Massive Asylum Ragazzi Citofono No Non c'è nessuno Chiusa Quindi l'entrata principale È chiusa ragazzi Iniziamo malissimo Che figa ragazzi Mi vedo il corpo Mentre Cioè Mi guardo Cioè Mai visto un gioco In prima persona così Almeno ci saranno Ma io non ho mai giocati Accovacciati E rialzati con cerchio Ah ok Ragazzi siamo dentro Salvataggio Siamo dentro del cortile Raga E non mi piace Ok raga Là c'è una finestra aperta Penso che devo andare Anche perché ci sono Sì C'è una scala lì Ok Ok raga Devo un po' Abituarmi con i comandi Perché È la prima volta che gioco Qua c'è una porta Ovviamente È chiusa Ok Corriamo raga Quando la videocamera È accesa Può ingrandire O ridurre la visuale Con Ok L'avevo già capito Questo perché Ok Ok Vai in automatico Perfetto Andiamo ragazzi Cos'è sta musica Per saltare in avanti Per mix in avanti Mentre avanti Ok Ah ok Perfetto Si può anche saltare Per saltare in alto Premix Ok ragazzi Cioè raga guardate Io mi sono in equilibrio Che cacchio di figata Ragazzi mi sono innamorato Di sto gioco Ma lo sto anche odiando Per i suoni che mette Che mi stanno cagare Facendo cagare addosso Che ragazzi siamo Siamo arrivati Perfetto Oh Beh cioè Iniziamo benissimo Ragazzi Cioè Come cazzo faccio A vedere il buio Per attivare gli infrarossi Sulla videocamera Premiere 3 Mentre la tieni sollevata No Che figata Ricorda che gli infrarossi Non ho letto Porco cane Che figata Raga Oddio però mi sto cagando A doccia Sembra vero Ragazzi mi ricordo Tantissimo Esp fenomeni paranormali Il film C'è una cosa E quel film Per me è stato traumatico Premi Ok Ragazzi non si sa mai Noi andiamo piano Ok Ah forse Consumo In alto a destra Ragazzi come ben vedete C'è la batteria Noi ne abbiamo Due su dieci Penso Perché le abbiamo prese prima Dalla macchina Due batterie Erano batterie Quelle affari Quindi penso che sono Le batterie Quindi l'infrarossi Consuma batteria Infatti cala Ma quanto sei bello Vabbè raga Mi sto cagando addosso Giuro Puttana merda Ma fai Stronzone di Chi ha acceso la tv Sei stato tu prete Ammettilo Che sei stato tu Maledetto Che cacchio Ragazzi sento Dei rumori bruttissimi Io vorrei cercare qua Se c'è qualcosa Ma No non c'è niente Io ne vado Io me ne vado Raga Ma si possono Chiudere le porte Si possono Che figata Ok Ragazzi andiamo avanti Per attraversare Una struttura Muovi verso di essa Ok Beh Ok ragazzi Iniziano Qualcuno ha avuto Le mestronazioni Sto scherzando Iniziano il sangue Sinceramente non mi piace Per niente Ovviamente Perché Primi Ok Ok ragazzi Qua c'è qualcosa Cos'è Batteria Raga La luce infrarossi Della tua videocamera È alimentata dalle batterie Puoi ricaricarle Premendo triangolo Ok Quindi E infatti Mo' ce n'ho 3 su 10 Perfetto ragazzi Ho capito Quindi praticamente Non abbiamo le armi Sto gioco Ma la nostra arma È la videocamera Con tanto di munizioni Che sarebbero le batterie Fantastico Ok Siamo molto Piano Io c'ho paura Che mi sbuchi qualcosa All'improvviso Qua c'è qualcosa Ragazzi Documento Ok Quindi faccio così Ci sono i documenti Ok ragazzi Come sempre vi lascio 5 secondi per leggere Vedete pause Leggete Ok Ok E Comunque penso ragazzi Che questi documenti Non siano tanto Diciamo Che ti fanno capire Del gioco Cioè sono cose Che potete trovare In cui potete leggere Alcune curiosità Sul manicomio Con questa canzone Ok ragazzi Si è chiusata solo la porta Perfetto Il mio personaggio Sta respirando Molto affannosamente Dalla paura E non è il solo Oh merda Ragazzi Che schifo Bene Ragazzi Io Mi sto Leggermente Cagando addosso Che qua c'è un Ravandito Che schifo È sta a fare Vabbè ragazzi Non voglio saperlo Una coca cola Una pepsi Cos'è Ne voglio una Non si può prendere Ragazzi Penso che Devo andare Qua sopra Infatti Quanto è buio Ragazzi Vabbè Ragnatela War Rider Cos'è che ha detto Ragazzi C'era un tizio La sotto Che non mi sembrava Tanto normale Ovviamente Siamo in un manicomio Vi ricordo Quindi Ragazzi Mi ricordo tanto Metal Gear Ste scene qua Nei condotti Fantastico Ok Andiamo Salvataggio Ragazzi Salvataggio Ok Qua sembra essere Ragazzi La hall Del manicomio Libreria Perfetto Andiamo ragazzi Nella libreria Putta la merda Zocca Che minchia Era quella cosa Ma voi siete malati Cioè ragazzi Ho il cuore in gola Mi sono preso Un infarto Porca puttana Ma siete malati No ragazzi Cioè Il creatore di questo Gioco Deve andare All'ergastolo Immediatamente Questa musica Dio mio santissimo Ragazzi No 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 Ragazzi C'ho paura Entra qua dentro C'ho paura Che cazzo è stato Tu sei stato Tu stronzo E sei anche senza testa Fantastico Ragazzi No Giù mi sono preso un colpo Oddio Ragazzi Ci sono Corpi appesi Qua dentro Io sinceramente Voglio andare molto lentamente Perché lo so Ragazzi Avvicina le mani Quando Ok Ragazzi Mio Dio ragazzi Mio Dio Ci sono delle teste Nelle librerie Ci sono delle teste Cioè Accoglientissimo Sto affare Ragazzi Aiuto Ragazzi Ho paura Ti giuro C'è una batteria Qua da qualche parte No eh Proprio Niente Ragazzi L'ultima Dove Pazzare Puttana Che cazzo è Ci hanno uccisi Sono fuggiti I mutati Non puoi batterli Devi nasconderti Sì ma Hai una cosa Nel collo Non so Se ti sei reso conto Usa i comandi La sicurezza Per sbloccare L'ingresso Toraccio Ragazzi Battene subito Da questo inferno Non so perché Ma voglio eseguire Proprio il tuo consiglio Ragazzi È morto Porca puttana C'ho anche la batteria scarica Porca puttana Ragazzi Aiutatemi Ragazzi No Ragazzi Ho sentito Un rumore Di catene E sinceramente Non mi piace Per niente Ok Ragazzi Ricarichiamo le batterie Cos'è I triangoli Mi sa Sì Ok Ok Batteria ricaricata Ragazzi Adesso ne abbiamo Due su dieci Non vorrei neanche sapere Cosa succede Se rimango senza batterie Raga Adesso non saperlo Qua è chiuso Molto bene Porca puttana Ragazzi Ok Che cazzo è Oddio Quanto sei brutto Lasami 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 Sono morto ragazzi Mi ha buttato giù Ah no Non sono morto Che cazzo è Chi è che canta Chi è che c'ha storcio E tu chi saresti Vada Volevo farti la domanda A te però Sono Lele Jackson Mi conosci Accapisco Di un misericordioso Mi hai inviato un apostolo Abbi quel di te figliolo Hai ricevuto la chiamata Ma che cazzo stai dicendo Ma è un prete ragazzi C'è una croce sulla giacca È una specie di prete Ok ragazzi Ci stiamo rialzando Sì ma c'è dietro quello Attento amico Perché c'è dietro il prete Falso prete Non c'è più raga Nuovo obiettivo Fuggi dal manicomio Accedi ai comandi Della sicurezza L'elenco degli obiettivi Riportato all'entuto da qui Ok Fuggi dal manicomio Accedi ai comandi Della sicurezza Per sbloccare le porte principali Sono dentro Ragazzi vi lascio un attimo Per leggere ovviamente Ok Ragazzi io Concludo qua per questo primo episodio Siamo a 17 minuti di registrazione Ok Ragazzi Va bene Ci vediamo al prossimo episodio Non mancate Io mi sto veramente cagando Adesso ragazzi Spero vi sia piaciuto questo primo episodio E ci vediamo al prossimo Non mancate Bene ragazzi E al prossimo video Ciao